Dal 1 ottobre Abruzzo e Marche sono ancora più vicine, grazie alla fusione tra il Banco Marchigiano e la Banca del Gran Sasso d'Italia, che ha dato vita ad una nuova realtà nel panorama del credito cooperativo italiano, un'unica banca che con la sua solidità è già al servizio di un vasto territorio, che dalle sponde dell'Adriatico si spinge fino ai monti dell'Appennino Abruzzese, crescendo nel territorio per il territorio, come spiega lo slogan scelto per presentare l'operazione a soci e clienti. I vantaggi sono sia per il territorio abruzzese ma anche per noi, che comunque in qualche modo aumentiamo, diversifichiamo la presenza del territorio, andando a ricercare nuove attività che comunque sono presenti proprio sul territorio abruzzese, imprenditoria che fra l'altro a noi piace molto. Il nuovo istituto di credito, frutto dell'aggregazione tra le due realtà, ha 28 filiali, suddivise su sei province serviranno complessivamente ben 106 comuni. È una fusione strategica nell'interesse del territorio, ovviamente offriremo al nostro mercato, al nostro territorio, quello della provincia di Terme e dell'Aquila, una banca molto più forte, strutturata, che è in grado di sostenere meglio tutta l'economia locale e le famiglie. Di questo sono contento e orgoglioso. È stato difficile arrivare fino a oggi, ce l'abbiamo fatta grazie al lavoro del Consiglio di amministrazione, oggi, del Comitato Promotore Ieri e soprattutto dei dipendenti che sono riusciti con grande professionalità a creare. Oggi è difficile creare le istituzioni, in particolar modo nel mondo bancario dove il contesto economico, la normativa è diventata veramente impossibile. In un mondo di cambiamenti che stiamo vivendo, sia come normativa italiana che comunitaria, siamo riusciti quindi ad arrivare dove altri non sono arrivati. La nostra è l'ultima banca nata in Italia, quelle nate insieme a noi e prima di noi non hanno raggiunto il break even, noi due anni che abbiamo fatto utili, la semestrale di quest'anno inutile, quindi è una fusione strategica, non di necessità, questo ci tengo ovviamente a sottolinearlo, quindi noi siamo orgogliosi per essere arrivati dove siamo arrivati e lasciare un'istituzione forte a disposizione del territorio.